E' di 115 anni di reclusione la richiesta del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, Claudia Pasciuti, per i 14 imputati del processo Caput Silente alla sbarra dinanzi al Gup Nisseno, Santi Bologna, il clan di Cosa Nostra di Leonforte assieme a presunti fiancheggiatori fornitori di droga, spacciatori e uomini del pizzo. Da chiarire nella prossima udienza la posizione di altri 4 imputati catanesi, le pene maggiori sono state chieste proprio per i leonfortesi che sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, i fratelli Alex e Simon Fiorenza, lo zio Salvatore Mauceri e il loro amico Gaetano Cocuzza. Per il 39enne Alex, ustilista, il PM ha chiesto 11 anni e 4 mesi per il fratello 37enne Simon U Bufalo, 11 anni e 1 mese e 20 giorni. Per il 34enne Cocuzza, 12 anni e 8 mesi e per Salvatore Mauceri, 10 anni e 1 mese e 10 giorni. Tra i 18 imputati per i reati minori ci sono anche dei giovanissimi ed uno storico della mafia ennese, Salvatore Ladelia, imputato perché avrebbe chiesto il pizzo ad un imprenditore leonfortese che ottenne appalti in alcune scuole di Enna e Piazza Almerina. Per la Delia sono stati chiesti 4 anni e 2.667 euro di multa.